Venezia, dopo aver trascorso qualche ora in compagnia di un amico in centro, è passato a controllare la sua osteria. Erano le due di notte, la finestra era stata forzata e dentro c'era ancora il ladro. Il malvivente ha cercato di farsi largo a colpi di stoviglie ma è stato bloccato dal ristoratore fino all'arrivo dei carabinieri che hanno arrestato Davide De Angeli, pregiudicato veneziano, per rapina impropria. In tasca i 170 euro prelevati dalla cassa. Per il ristoratore invece una visita all'ospedale San Giovanni e Paolo per le ferite riportate durante la collutazione.